Un saluto a tutti e a tutti, sono Don Marco, direttore del CUM e vi parlo da via Gaetano Trezza al numero 13 al numero 15, questo è il nuovo indirizzo del nostro CUM. Ho il piacere di invitarvi per una giornata di inaugurazione di questo luogo, sarà sabato 21 settembre. Qualcosa di ufficiale ma qualcosa che speriamo anche di bello, soprattutto un'occasione per incontrarci prima di tutto perché possiate vedere gli spazi che ci ospitano, una casa antica qui nel centro storico di Verona, inserito in una realtà molto particolare anche di presenza religiosa, tante altre realtà qui vicine, anche un quartiere oggi multiennico, quindi una realtà particolare molto bella anche che parla già da sola della missione. Conoscere i nostri spazi, i nuovi spazi e quello che vogliamo che sia la casa vostra, ecco di voi che frequentate la missione, che siete dentro in prima persona nell'esperienza missionaria. Al mattino sarà soprattutto l'occasione di riflettere, un po' ripensare proprio anche la missione oggi. Pomeriggio altri momenti di taglio più culturale ma anche così una riflessione sulla realtà in cui siamo inseriti. A fine mattinata, un momento di preghiera, conteremo anche con qualcuno della presidenza della CEI proprio per dare ufficialità e la CEI che ha voluto questa casa. Noi ci rallegriamo di poter qui continuare la lunga e bella esperienza del CUM che ha presente e anche futuro. Vi aspettiamo tutti il 21 settembre.